Ciao, io sono Irene e questo è il podcast di Italiano Bello. In questo podcast troverai tanti episodi in italiano semplice, quindi se stai imparando l'italiano e se ti piace quello che pubblico, sono contenta di darti il benvenuto sul podcast di Italiano Bello. Se vuoi scaricare una lezione gratuita sul tempo, su come parlare del tempo in italiano, guarda il link nella descrizione di questo episodio e scarica la lezione gratuita. E ora cominciamo! Allora, oggi registro questo episodio mentre sono sul balcone. Sapete cos'è un balcone? Il balcone è quel pezzo di casa, quella parte di casa che si affaccia sull'esterno. Quindi il balcone non è una stanza, non c'è un soffitto sopra la testa, ma sopra la testa c'è il cielo, quindi è uno spazio aperto che può essere piccolo o grande, che è attaccato alla casa, all'appartamento, ma a faccia da sull'esterno. Quindi sono qui seduta sul balcone a guardare il cielo e gli alberi. Oggi non è una bella giornata, oggi il cielo è grigio, forse pioverà, cioè forse cadrà la pioggia, ma ora non piove, è solo un po' brutto. E oggi è una puntata, è un episodio speciale perché ti svelo, ti rivelo il segreto, il segreto fondamentale per imparare l'italiano. Attenzione perché è un segreto. Nessuno, nessuno ti dirà questo segreto. Ovviamente sto scherzando, non è un segreto veramente segreto. Sembra una cosa ovvia, ma voglio darti un consiglio per imparare l'italiano o anche per imparare tutte le altre lingue straniere che vuoi imparare. E appunto sembra un consiglio ovvio, sembra un consiglio banale, sembra un consiglio un po' stupido, ma non lo è. Secondo me è molto molto utile. Ecco questo consiglio super segreto. Per imparare l'italiano devi leggere cose in italiano, ascoltare cose in italiano, scrivere in italiano e parlare in italiano. Bel segreto, vero? Ma una cosa ancora più importante è che per imparare l'italiano devi leggere, parlare, scrivere, ascoltare cose che ti piacciono. Questa è la cosa più importante di tutte, cioè devi trovare dei libri, dei film, dei podcast che ti piacciono. Cioè se vuoi imparare l'italiano devi ascoltare o guardare o leggere contenuti che ti appassionano, che è piacevole ascoltare o leggere o guardare. Perché solo così sarai invogliato a continuare, solo così potrai continuare a tenere alta la tua motivazione. Quindi bisogna trovare contenuti belli, contenuti che vogliamo veramente leggere, vogliamo veramente ascoltare. E il mio consiglio è questo. Come trovare questi contenuti belli, questi contenuti che ti piacciono? Ecco il mio consiglio. Fai una lista, quindi scrivi tutte le cose che di di solito ascolti nella tua lingua. Per esempio fai una lista di tutta, di tutte le canzoni che ascolti, fai una lista delle tue canzoni preferite, fai una lista dei podcast che ascolti nella tua lingua e fai la stessa cosa con i video o i film che guardi, fai la stessa cosa con i libri che leggi. Poi prendi gli argomenti che ti piacciono e su internet o in libreria cerca dei libri, dei film, dei video, dei podcast, della musica che parla degli stessi argomenti ma in italiano. Molto semplice ma questo è veramente il segreto per imparare una lingua. trovare contenuti che ci piacciono davvero in modo che, così che siamo invogliati, abbiamo voglia, siamo entusiasti di leggere, guardare, ascoltare in quella lingua. Ti faccio un esempio. Se nella tua lista vedi che ti piace ascoltare podcast, non so, di psicologia o di sport, ecco, cerca dei podcast che parlino di psicologia o di sport in italiano e poi ascolta quelli. e la stessa cosa puoi farla con i libri, con i film, con la musica, con tutto. Io lo faccio, io ascolto tanti podcast e magari, forse, in un altro episodio parlerò dei miei podcast preferiti e ascolto podcast in tutte le lingue, in italiano, in francese, in inglese, in latino, in tedesco. Così ascolto cose interessanti e allo stesso tempo, contemporaneamente, imparo oppure ripasso le lingue che sto imparando. Quindi, questo è il super, mega, iper segreto per imparare l'italiano. Trova contenuti che ti piacciono e ascoltali. Quindi, per oggi è tutto. Trova i podcast, i film, i libri su argomenti che ti piacciono in italiano e comincia ad ascoltarli. Quindi, appassionati, ama quello che ascolti, che leggi, che vedi. E vedrai che imparare l'italiano sarà molto più facile, molto più naturale, molto più divertente. Noi ci sentiamo presto e ti auguro una buona giornata. Ciao! Ciao! Grazie per aver ascoltato questa puntata. Se la puntata ti è piaciuta, condividila con i tuoi amici, con qualcuno che sta studiando l'italiano come te. Non dimenticarti di scaricare la lezione gratuita sul tempo. E noi ci sentiamo giovedì con un prossimo episodio. Ciao, ciao!